Il problema quando devi vincere è anche il Matelica, noi l'abbiamo un po' di più perché abbiamo una tifoseria, abbiamo una struttura professionista, devi giocare sempre per vincere, tutte le squadre giocano per vincere, però dipende dalla partita, la paura è sempre che puoi sbagliare la partita, puoi avere un filo di calo di attenzione, ma anche una cosa inconscia, sono ragazzi, sono esseri umani, non è facile mantenere sempre la tensione, sempre quell'intensità e se non siamo così, qualche partita poi rischiamo anche di non vincerla. Sono una squadra esperta, una squadra consolidata, una squadra forte per questa categoria perché hanno solo preso 5 gol e hanno il capocannoniere delle ultime 3-4 stagioni, tutti gli anni fa più di 20 gol, quindi vuol dire che non è una squadra sicuramente facile.